Firenze si arricchisce con un'altra opera di recupero, curata dagli Angeli del Bello, l'ultima impresa. È la Casa del Bello, a Porta Sanfrediano, uno spazio dismesso, degradato, avuto, incomodato d'uso dal comune e trasformato in un'area dove si svolgeranno iniziative anche per i più piccoli. È una grandissima impresa, è veramente un ringraziamento perché mi ricordo quando abbiamo fatto l'inaugurazione, perché abbiamo dato loro attraverso un comodato gratuito, le condizioni in cui era, quindi hanno fatto tantissimo, è già diventato un luogo bello e grazie per tutte le attività che quotidianamente gli Angeli fanno da 11 anni in questa città, non soltanto contro le scritte vandaliche, ma ormai davvero per la cura dei giardini, fanno un lavoro straordinario con i bambini, quindi per sensibilizzarli ed educarli al bello. È un lavoro di cittadinanza attiva importantissimo. Gli Angeli del Bello compiono 11 anni di lavoro volontario per cancellare vandalismo e ogni forma di degrado per le strade e non solo di Firenze. Proprio in questo periodo la ONLUS ha promosso dieci giorni di attività per sensibilizzare sempre più persone a prendersi cura della città. L'anno scorso avevamo annunciato che avremmo iniziato a sistemare la nostra Casa del Bello, penso che l'avete potuta riprendere, quindi grazie al contributo di tante persone che ci hanno aiutato, dei volontari, perché molto olio di gomito oltre le attività che sono state fatte, e quindi ora abbiamo gradualmente, che ancora non è finita, ma insomma a breve noi avremo questo posto che sarà per noi importante, non perché dobbiamo dargli una sede, non è nel nostro spirito, di avere un contenitore dove noi potremo fare tante iniziative anche di formazione per i bambini. Grazie.